Ciao, sono Daniela Tarrani, numero 42, Formula Promotion, siamo a bordo della mia macchina, vi porto a fare un giro del circuito. Eccoci qui, quinta marcia, adesso si mette la sesta, si arriva in fondo al rettilineo circa a 170 km orari, si levano due marce, una curva che apre molto, tutta in accelerazione, quarta, 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 si arriva alla prima staccata forte, si leva una marcia, giù tutto, quarta, e qui siamo ad un tornantino abbastanza stretto e si fa di seconda, seconda, giù tutto, qui arriviamo alla parte diciamo più tecnica del tracciato, questa s veloce che se ci se la fa si fa tutta piena, quarta, quinta, altra staccata molto importante, due marce, tutta in accelerazione, ok, quarta, terza, una curva molto, molto aperta, si fa in due, una curva, una doppia curva, qui arriviamo ad un'altra s, stretta però, si fa di seconda marcia, e qui, e qui, ci lanciamo di nuovo sul rettilineo principale, dove si vanno a scaricare tutte le marce, e si raggiunge di nuovo la velocità di circa 170 km orari, eccoci qui, questa è la mia performance, una delle migliori, ciao a tutti, e ci vediamo in pista per la gara.